Una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto della microcriminalità in genere alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona. Così si è articolato il piano straordinario provinciale predisposto dal comando dei carabinieri di Salerno agli ordini del colonnello Filippo Melchiorre per un'estate sicura che ha visto l'intensificarsi dei controlli alla circolazione stradale in relazione soprattutto all'aumentato traffico di automobili in prevalenza verso le zone di villeggiatura marine e montane dell'area turistica della provincia di Salerno durante l'intero periodo estivo sotto controllo le rinomate località della costiera amalfitana e della costa cilentana ma anche il capoluogo cittadino. Una serie di interventi che hanno visto in totale al lavoro 912 pattuglie, 2000 militari delle stazioni e dei nuclei operativi e radiomobili. È tempo di bilanci per il piano straordinario attuato per garantire un'estate sicura. Complessivamente sono stati controllati nell'ambito degli interventi per il rispetto delle norme del codice della strada 1783 veicoli identificate, 2421 persone elevate, 224 sanzioni al codice della strada, tra le violazioni più effettuate la guida senza cinture e l'uso di telefonino alla guida. 25 persone sono state anche deferite per guida in stato di ebbrezza ma i controlli dei carabinieri sono stati finalizzati anche alla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze stupefacenti. In questo ambito sono state effettuate ispezioni e perquisizioni in base alle quali 16 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droghe. Infine sono state complessivamente tratte in arresto 47 persone, 20 per spaccio di sostanze stupefacenti, 8 per atti persecutori, 3 per estorsione, 7 per furto, 2 per truffa agli anziani, 3 per rissa, 2 per spendita di banconote false, una persona per tentato omicidio ed un'altra per rapina.